La bioeconomia è quella parte di economia che utilizza come fonte produttiva le risorse biologiche rinnovabili provenienti dalla terra e dal mare, come ad esempio le colture, il legno, gli animali e i microorganismi per produrre cibo, materiali ed energia. L'obiettivo della ricerca è quello di promuovere l'attivazione di processi riflessivi e partecipativi con alcune aziende che producono prodotti bio e con alcuni attori del territorio, come ricercatori, come associazioni, per analizzare le caratteristiche che le politiche bioeconomiche assumono nel territorio veneto e, a partire da questi processi, consentire alle imprese di riflettere sulle strategie per sviluppare azioni di eco business. A livello metodologico lo studio è iniziato con tre studi di caso condotti su aziende con certificato biologico per almeno un prodotto. Questi studi sono stati finalizzati ad individuare le caratteristiche di tali aziende per capire, ad esempio, se hanno caratteristiche che si differenziano da quelle delle imprese tradizionali. A partire dai risultati emersi dagli studi sono stati condotti due living lab, due laboratori viventi, nei quali sono stati fatti interagire diversi esperti in materia, come imprenditori, politici, ricercatori e associazioni. Quello che lo studio ha messo in luce è la presenza di un vivace settore bioeconomico in Veneto, ad esempio, dalle bioplastiche ai bioprodotti per l'edilizia per il settore non food, dalla pasta ai prodotti orticoli per il settore food. Si tratta di piccole e medie imprese che occupano nicchie di mercato a forte connotazione etica, nicchie nelle quali la coopetizione è il lubrificante di affari e relazioni sociali. Queste nicchie di mercato, però, hanno bisogno di essere valorizzate, mediante la creazione di network che garantiscano che i singoli attori non siano più dei nani in un mondo di giganti, ma entrino a far parte di una rete cooperativa sempre più resiliente. Infatti, la ristrutturazione dei settori bioeconomici sposta il potere su chi normalmente non ne ha, i piccoli produttori, gli agricoltori, gli allevatori, i consumatori, la società civile e le sue reti.